La frutta e la verdura che compriamo al supermercato la paghiamo il doppio del suo costo effettivo. Il motivo? Il cambiamento climatico, ma il tempo e siccità acquiscono le storture del sistema distributivo con conseguenze dirette sul nostro portafoglio. A dirlo è col diretti con un'analisi dei dati Istat sull'inflazione del 2017. Nell'anno appena concluso si registra un rincaro dell'1,9% sugli alimenti, con picchi del 3,6, il triplo della media annuale per i prodotti non lavorati come frutta e verdura. Gli effetti sulla spesa sono destinati a farsi sentire anche nel 2018. La raccolta di miele negli alveari è praticamente dimezzata, denuncia col diretti. La produzione di vino è diminuita di un quarto e l'olio d'oliva registra un calo dell'11% rispetto alla media dell'ultimo decennio. Tra gli effetti della contrazione delle produzioni, oltre agli evidenti danni economici per le aziende agricole, anche il rischio per i consumatori di acquistare prodotti di importazione spacciati per italiani e venduti anche a prezzi più alti del normale. Raccomandiamo la massima attenzione all'etichetta e consigliamo acquisti diretti dagli agricoltori, sottolinea il direttore di col diretti Arezzo, Mario Rossi.